L'inaugurazione ha dovuto subire un lieve contrattempo. Ah, ecco, bravo Roveda. Siediti là. Tu sai quante coppie tiri il giornale, vero? 500.000. Tutta l'opinione che conta nel paese. Sì, gente che magari legge anche altri giornali, di altro colore. Ma che alla fin fine si rivolge a noi, al giornale, per sentire dalla sua voce una parola pacata e definitiva. E questa voce, Roveda, deve essere sempre la stessa. Dalla prima riga dell'editoriale all'ultimo annuncio economico. Sì, sono d'accordo. Chi è il nostro elettore? È un uomo tranquillo, onesto, amante dell'ordine, che lavora, produce, crea reddito. Ma è anche un uomo stanco, Roveda, scoglionato. I suoi figli, invece di andare a scuola, fanno la guerriglia per le strade di Milano. I suoi operai sono sempre più prepotenti. Il governo non c'è, il paese è nel caos. Apri il giornale per trovare una parola serena, equilibrata. E che cosa ci trova? Il tuo pezzo, Roveda. Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si bucia vivo padre di cinque figli. Ora, io non sono un bertoreco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione. Ma... Compiuta la quale? Tu prendi questo pover uomo direttore e gli sbatti in faccia cinque orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo pover uomo direttore? Un neurotico? Ti ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di fare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, due parole. Di... Cos'è un calabrese, il poveretto? Sì. Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola. Che contiene implicitamente disoccupato il padre di cinque figli, ma dà anche un'informazione in più. Certo. Il succo della notizia, la sintesi. Il dettore apre il giornale, guarda, se gli va a legge, se non gli va a tirare via, ma senza avere la sensazione che gli vogliamo rompere i coglioni. Senza sentirsi lui responsabile di tutti i morti che ci sono ogni giorno nel mondo. Comunque il pezzo è eccellente. E magari c'è qualche parolino in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato. Rimasto senza lavoro. Rimasto senza lavoro. Bravo. Facci dentro la veda, che la stoppa c'è. Adesso lo ricopi e lo porti direttamente in composizione, vai.